Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri di Ponte Cagnano con l'accusa di estorsione continuata e aggravata e induzione alla prostituzione minorile e posto in una comunità. L'indagine è scattata quando un 46enne della provincia di Salerno ha presentato una denuncia raccontando nei dettagli di essere ricattato da un minore e da un complice maggiorenne. L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine di aver contattato su una chat per incontri sessuali, il 17enne con cui ha avuto rapporti omosessuali a pagamento. Successivamente però il ragazzo con la complicità di un maggiorenne ha chiesto alla vittima dei soldi in cambio di silenzio sui loro incontri omosessuali. All'inizio il 46enne ha pagato ma quando le richieste sono diventate sempre più pressanti ha deciso di denunciare tutto. Le indagini dei carabinieri della stazione di Ponte Cagnano hanno consentito non solo di appurare gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minorenne in riferimento alle accuse di estorsione ma analizzando il cellulare del ragazzino i militari hanno scoperto che il 17enne aveva anche cercato di adescare altri minori per avviarli alla prostituzione.